Mario, chiedi te? Vabbè ti chiedo il padre, scusa Allora, allora gira a destra e loro te li ritrovi praticamente dal tuo lato Claudio Ok? Secondo due per questa serie, per dare... che noi siamo... Allora... Non ci sono assolutamente problemi fatto che se non è un problema per te, non è un problema per te 20 bocca... Una benedizione Ti metti in giro Ma io ho solamente 5 euro Ho una benedizione No, dici che ti piace il satomaso qui Se per te non ho un problema, penso che sicuramente non ne va a parlare ai giornali Vabbè, guarda... Guarda se quando è bene questa Noi, intanto... Guarda quando due è lì Capito di qua non si sa da una serie Da qua non si sa da una serie Oh che grandissima, fin gli occhiali Oh guarda, 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 c'era un tipo con la macchina, si è girata, ma faceva un incidente Ma secondo me, secondo me che ci vuoi fare, con una cosa, ti prego, fai una brava ragazza, non essere cantiva per te, sempre andate, che mi sono a porti, che mi sono a porti Facciamo il trotto dei soldi a disposizione e poi decidiamo, mi sembra la cosa migliore da fare Sei simpaticissimo, è molto bella Abbiamo del pane e del vino Santifichiamo questa mensa e ricordiamoci Che ciò che è sostentamento per il corpo, lo sia anche per lo spirito Puttana madonna, vogliamo mangiare o no?